non ma no ma in occhio telegram facebook si si guadagna metri stop io bella ora questo è bello questo così si fa io cane primo tiro fatto con la cosa in moto no mi sa che ora c'era un manuale sai no non credo non credo perché se esce alla partita non dovrebbe rimanere attivo bravo palla dentro va sul pallone può essere pericoloso state dietro il bagno è un'occasione per segnare gol e c'è il pallone dentro oddio sennò ci inculava la motta ma meno male meno male è vero eh bravo Gianni vinti non c'era la difesa vabbè meglio così perché esultano così tanto per un po' di merda così bello questo è buono questo è buono questo è buono io cane sì no perfetto di stella ma sto tranquillo ma sto tranquillo ma sto tranquillo maledetta maledetta puttane ah non fa così ma 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 attenzione morte mi diventa rigore rigore c'è anche la punizione la attenzione ti abbatte tocchi nitch quello c'è il capello ma sul pacacozzo guarda rigore per il possibile 4 a 0 ok ok ti piace il cazzo molto ma ma quelli di colore quelli lunghi ma sul pacacozzo eh no no c'è il go ragazzi c'è il go ragazzi c'è il go ragazzi mamma mia Que la gattina che fanno alla snitch alla corretta più sai questoanganoso ah mi ce l'hai che né che ah dai hai chiamati domani i inglesi col micro Bene, bene, questo con cui non hai visto Mamma mia Hanno vittato al 93 Allora finita, è una vinta, stravinta questa partita Ma dove si metteva?